Di merda dove lanciarsi Ma E' stato oddio là in realtà Una colpa E ci ha fatto scendere a Mainz E' stato proprio Simone perché non si impegnava Adesso adesso si impegna e vince Guidateci Allora guidatemi alla pistola Attenzione al gas Andate nella zona sicura Non c'è un cazzo Non chiedetemi perché Beh mi piace Forse tranquillo Ne dubito Potrebbe essere il pensiero di molti Ecco c'è almeno un team Vado qua Ok lo so Fucile di precisione disponibile Nooo Non ci credo E' un po' Questo è un tipo sottoterra adesso Sono sottoterra Ok Sottoterra Ma che cazzo Meno male dovevo impegnare Di mamma non c'è qualcosa Non muore in gioco Non farci fare brutte figure Questo gioco è perfetto In questo momento si Il gioco è perfetto E' impossibile E' uscita qualcosa che non vale Vabbè alla fine vado nella casa Sono spariti tutti Io non vedo più nessuno No 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 C'è un gioco Non c'è un'esca Ancora me Ammetto Se uno si uccide così Vuol dire che sono forti Cazzo Già trovato l'attacca Oh Io si Non so Appena di quei razzi Dove c'è la salute Eh vabbè perché Ne ho lasciate Ma le cose quale Ho fatto tutto No io sto lutando male Perché non riesco a capire Se stanno ancora qua questi Io ho boccio il pavimento Rialzati E' un coro tipo Eccolo davanti No è davanti No è vicino Metta confermata E' una E' una E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Ma non manca il mitra Sono due team Stanno comportendo Gli ho preso la mina Qua ci sono delle rocce Che non vedevo E' un comparto All'improvviso Ma Cristo Vedo delle cartucce Per facile Come non vedo Me non vedi bene Quella casa Stanno In questo gioco Così Uno è fuggito Sulla destra No Io cerco un mitra Ragazzi Sono senza armi Ma vedo tutto Sostordinario Ma che cazzo Sono fuggiti Sono fuggiti Stanno l'alberdo Che bigliacchi Tutti e tre Sì sì hanno fatto un team Qua sono un passassido Qua c'è un mitra blu Che arrivo Quello Una S44 Che vogliamo fare? Eh non lo so Non abbiamo manco soldi Cioè No Bel post Finiamo la testa Ah proprio così Però sento sparare anche dietro Non c'è un cadavere Sì è quello che hanno fatto I tipi Oh no Stavo a cagamano con sta clamor Chi l'ha messa? Io Ci ho presa la mina Detonazione Bomba nebula 5 in 10 Chi la tirano subito la nebula? Fa un timer Ma dove è? Ma capito Tarnissimo Camion Scusa da me Camion e macchina Macchina nel fiume Al negozio Sto andando al negozio No 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 Corriamo No aspetta davanti a me Perché vi vuole investire Non ci ho visto Ma non so come ho visto Munizioni scarse Bene Per in qua che c'era una cassa Cerco le munizioni Dove cazzo Eh sto indietreggiando quello che Non lo posso non dare Distruggiamo questo percolo nemico Ma vaffanculo Uno mi sembra uno da solo eh Verso la macchina Sono rimasto fermo Non lo vedo ma gli sparano Attacco il tiratore Ho due Ho due E' un altro Fassinissimo Attacco il tiratore Oh vabbè Che vergogno Ora il tuo alleato è nel gulag Se sopravvive tornerà in battaglia Grazie Che bu? Per me si mette maluccio E Jerry è ancora vivo Ha un parolone Da poco Con la macchina Adesso sei nel gulag Sopravvivi per gli schiagli Ok 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 Il tuo alleato ha perso Certo noi siamo morti Puoi farcela Fatti valere Concentrati È il tuo momento Occhio soldato Tocca a te Sopravvivi e tornerai in prima linea Morti e sarai fuori dai giochi Vai e fatti valere soldato Dai No Scusa Vedi che sei un pro Non so che che tasto dove ho schiacciato Non ho sentito quello che mi ha detto Stavo in questa valpesta Ho fatto ricercato qua Vado Vado Fatti Occhio che c'è un bombardamento sei senza armi per scelta o dato se hai fatto la mossa sei nato senza armi? no lui è così, gli piace la mano nuda ma io che è una bella zona c'è due marchi, hanno appena preso lo sciacalla che c'era qua a più di giallo c'è uno sciacallo, l'hanno preso ok, sicuramente si, quindi arrivo in un'ora qua vedete che ero? mi prendo un bacchetta sei entrato da sopra? sì sì, l'ho buttato sul tetto per non schiantarmi perché non vedo sotto di me ok, adesso si apri quello quando ti senti sicuro hanno rianimato là eh ho sentito anche spararti eccolo ho visto dato che io sono sciacchino me ne è arrivato sul tetto ho visto che anche era funcino ha fatto un'ora sono lì, erano che sono lì, erano i suoi ma sono lì, erano i suoi sono lì, erano i suoi erano i suoi cassa di scorte identificata marco la posizione del mare ha rianimato di nuovo io no sono fermo io sono sotto la curva metà confermata eccoli stanno andando alla cassa aspettiamo c'è una nuova zona sicura vedo il bersaglio a terra fatta mamma mia ho fatto l'altro non è un uccisione ma no ma mi sa che è pure non è un uccisione non c'è un cristo vieni qua vieni qua questi hanno preso le cose pieni di roba ora i soldi è sicuro era riposizionato dei soldi barri carano oh che cos'è che è ho preso un fumaggio un indicatore ah quello c'è una stazione mobile d'acquisto ah un negozio ci dà un negozio mobile si vabbè lo lancio ci prendiamo un regolamento si 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 lo lancio qua si dovrebbe funzionare così poi tornerai dove stavamo prima però no dai i soldi i soldi i soldi vedo dei soldi lo lancio sopra dove stavamo prima o adesso? si si andrò non lo stavamo prima no? si si andrò non lo stavamo prima non ciò che però vabbè se mi sparano vabbè tanto non possiamo più rinascere vabbè comunque non lascialo a loro tiralo qua dietro eh no lo lancio vabbè 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 anche un altro piano ma c'è un cartellone non morire acqua dove sto io ci sono delle scalette per accedere vi possono salire da sotto non lo sento ma non lo vedo attacco il tiratore ah si adesso si vince confermato bombardamento quando tiri il bombardamento compare sulla mini mappa non c'era uno ecco il bersaglio va abbattuto solo sul tetto non c'è più mappa è sparato per il bombardamento avete colpi di cecchino? 6,25 non mi ha messo guarda quali sono? ah no è no arriva non mi ha messo guarda sui non mi ha messo guarda non mi ha messo guarda non mi ha messo guarda Stanno laggiù, eh? Lì verso il blu Ah, dove sta l'ombra? Non lo vedo? No, adesso va Quello hai fatto? Mamma mia Sì Però non era da solo No, a destra, lì Va giù Vabbè, lì devo fare cosa gialla Se hanno uno Ok Si affaccia ogni tanto dalla porta Sta affacciato dalla porta Oh, sta a sparar con uno Che sta al blu Fatto L'hanno confermato Eh, perché c'era un altro team Sì, sì Stanno là, infatti, eh? Non importa La caccia grossa l'hanno fatta Quindi c'è qualcuno qua davanti A destra Attacco il tiratore Ho traiato Forca misura Il gas vi raggiunge Ancora 25 Non puoi arrenderti Dobbiamo arrivare alla zona sicura Madonna, 23 Camion Ho visto Al negozio No Lì dentro che stanno sparando Marco, questo punto Dice uno Stanno arrivando Ottimo Chi m'ha nientato Oh, a destra Parano A destra Parano No Vieni, vieni Che Stanno qua, eh? Quello sparodello Ti raduno Andiamo alla casa Motel Qualcuno ha fatto uno C'è, abbiamo anche a destra C'è la botcaglia Menta, con fermata Il gas si avvicina Nuovo Una sicura per voi Dov'è? Un'altra uccisione Ok C'è che tossica C'è io L'ho portato di Nebula L'ho portato di Nebula L'ho portato di Nebula L'ho affatto Nella boscaglia Il pink verde C'era un altro team Eh sì C'è sta Il primo l'ha fatto Simone Passi in arrivo Da dove? Da dietro Dove stavano Il negozio Il negozio Non lo vedo Davanti a noi Attacco a grappolo Alleato Mi piantano qui Mi sono dovuto un po' allontanare Ma quelli a destra Dove stai te? Forza Non c'è nessuno Ci sparavano da là Ah c'è uno davanti Fatto Ottimo Ti mani il tasto Io sono praticamente in acqua Ce ne ho davanti uno Dove è il secondo team Passiamo uno contro uno? No no C'è sono tre team Tre team Sono pieni probabilmente Probabilmente C'è probabilmente Senza questo Oh mi ha lanciato una granata Tu son qui davanti a me Riasci a pingare più o meno la distanza? Eh no lo vedo Il votatore rosso davanti Io sono in acqua Cazzo Mi sparano Qua Attacco il tiratore Cazzo in avvicinamento Nuova zona Ecco Oh cazzo Fatto Ora quello che ho visto Fatto Fatto uno Nella boscaglia Fatto avanti a me Quanta gente manca? Non lo so Ce n'è uno qua avanti Che me lo segna Adesso non me lo segna più Non so dov'è Quando vedi Di metri pure 50 metri Tra me Avanti a me 50 metri Avanti a me Craccato Craccato Non lo vedo Qua la mia destra La mia sinistra Scuto Cazzo Fatto 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 Mamma mia Che partita Che partita ragazzi Perché ho fatto Nel culag Che cosa ho detto prima Simone si impegna Vinciamo Bella Bella Mi è piaciuto Il caos Che ho provocato Con il camion È stato efficace Sì perché mi hai dato modo Di rientrare Nelle fratte Adesso le mangiavano Le vinciamo due Di fila Ma lo sento La tratta con il quale L'ultimo è quello che io ho Terrati ai cibi No era in piedi Quello che ho uscito Ah ok Allora io Erano due Erano due Quando tu hai detto Che rimaccano Erano due Erano due Ma anche il fatto Che non eravamo Un appiccicato all'altro Alla fine Esatto Quello che ho fatto Sì Perché da sempre Ci ammazzano uno Probabilmente ammazzano Tutti quanti Non ritorni mai Non torni mai